Ci siamo, Gnaomo Yiggy, un set che può regalarci grandissime emozioni. Potrebbe durare due minuti o 40 minuti. Esatto, da una parte comunque Gnaomo ultimamente non viene tanto spesso quanto veniva prima, però quando viene è sempre decisivo diciamo, l'ultima volta avrei vinto, l'ultima volta avrei vinto tipo vinto. No, mi sembra che l'hai vinto io. Non è mai vinto niente in vita tua. Eh, lo scusate! Ok, guarda sull'estero, guarda che lavoro. Ok, bellissimo. Anche qua, qua abbiamo il master l'estero. Chi è realizzato io quello? Eeeeeeeh! Qui vabbè, il timing è sempre lo stesso, chiaramente Gnaomo si adatta, lo perdi a... No, di, di, di... Ehm... Ok, sempre, sempre i ciuccetti termino ufficiale, ciuccetti cognato da Rico. È impossibile recuperare. È il glitch dell'estero, quindi... Che cazzo dite poi. Che cazzo dite poi. Ehm... Ok, ok. Ma perché devo... Cosa fa? È strana, è strana con Bertha, ma... Oh, però, schiaff di... Oh, boi. Sono, sono, diciamo... Per lo, per lo meno fanno perdere la pazienza quando te ne prendi un miliardo, però sai che non uccidono, quindi... È come saltare in testa a Gairo. Sì, tipo... Solo che... Se capisci... Bah, vabbè. Eh, va bene. Mi dà fastidio a me. Ok. Eh, vabbè, prima dei 200, tanto l'amore a quel quale mi sfai raccomando di Gnaomo. Sì, c'ha l'input proprio. Sì, c'ha l'input proprio. Oh! Ho missato la cosa più facile del gioco, lì. Tanto sono imponibili, stiamo finendo giù. Sì, sì. Qua se si atterra sulla piattaforma è effettivamente molto difficile. No, non è che è difficile, è possibile. Oh! Qua è il Junk. Morto. Eh, 140 al livello. Eh, vabbè, cioè, solitamente non ammazza quel percento. Sai te. Sì. Eh, comunque è sempre vantaggio considerevole, più di Gnaomo, al vento per cento, grandi successi. Bella, no? Oh? Eh, boh. Cioè, è un match molto difficile da commentare. In generale è commentare a Simon secondo me è molto difficile. Parla da solo. Beh, sta lì, sta lì, fa le sue cose. Non ti approccia. Scilla nella flettura, bravissimo. Eh, sì. Eh, nel senso che qui sono bravi a strappare, altri sono bravi a scilla nella flettura. Oh, sì. Mi è piaciuto, ha provato a fare il ticcetto la extra. Forza. Eh, sì. Che foge. Ok, 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 il vantaggio si riduce sempre di più. Ok, bella citazione, qui, bravo. Vediamo quanto è cucinato qua. Ok, bello. Ok, va bene. Ok. Oh? È impunibile, come ho detto. Eh, ok, 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 ok. Ma? Eh, vabbè, lui ci sono ticchia alzato. Ok. Eh, non ha ucciso quel pochissimo. Ok, non ha preso davvero per niente la lascio qui. Eh, Iggy sta... Eccolo qua. Prende il vantaggio. Wow. Wow. Eh, non l'avrei mai avuto. Eh, non l'avrei mai avuto. Eh, non l'ho pensato. Eh, non l'ho pensato. Torna alla stazione di parità. No, è tutto il gimp di tutte le persone. Esatto. Eh... Non verrà più strato. Eh... Ok, stai zitto, stai zitto. Eh... Eh, vabbè. Ci passa, ok, ok. Ciao, ragazzi. È finita, è finita, è finita. Invece no. È finita come Bowser, ti credo che lo faccio. Invece non è messa. Però, però... L'ha nailata. L'ha fatta. Tipi cagnolo. È difficile. No. Eh, mi chiede io. Ah, tu cazzo lì, quel pede sarebbe potuto essere decicino. Perché ha combattuto? Eccolo. Ok, morto la vita. Ok, morto la vita. Tutti e tre... tutte e tre stop prese col ciucetto, no? Praticamente. No, non c'è. No, non c'è. 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 Sì, dicevano Iggy mi spada adesso. Come torno indietro? E devo per fortacere il personaggio? Qua Roberto Betto non fa le cose come si deve. Possiamo mettere qualcosa con il copyright del mio streamer? Possiamo settare tutte in aria? Sì. Ah, non puoi dire niente. Vadoora, ieri è partita a lavoro. Se ci fai caso non te l'ho mai chiesto. Mai. E insomma, intanto comincia questo game 2, quindi questo è un finantissimo set. Non vedevo l'altro. Così, è Smashfield o Town questa? Cos'è? Cos'è? Tu sei io, eh? No, io non lo riconosco. No, io non lo riconosco. Ok, sono in city e... Come si fa a commentare così? Ehm... Non c'è voluto se lo sai l'italiano. Sì, esatto. No, ma devo giocare sempre contro me lo stesso. Ok. Ma tanto non devi giocare, devi fare clac clac sullo Smashbox, sperando che ti esca qualcosa. Sei tipo le scimmie che dicono, eh, se metti 100.000 scimmie prima un po' scriveranno Shakespeare, tu sei la stessa cosa. Se ti mettono per 10 milioni di ore a fare le cose sullo Smashbox, prima un po' ti vengono eletric. Prima o poi io lo vero. Ehm... Sì, al fine sta sempre lì, fai le sue cose, lì, tira i proiettili... Ehm... Nella zona. È tornato. Muore. Ok. È morto! È morto! È full rage al 160, ci può stare forse. Vabbè, allora se ci puoi... Ok. Mi ha letto il saldrain giusto, la botta a 30 anni. Vabbè. È morto! Ok, è finita, eh, ciao, va bene. Ok. No, eh, l'ha droppata! Come si fa? Ok, ha staccato l'Arduino. Dovrei mandare... Il fatto. Dove passa un F-I-D? Ok. Vabbè, non lo scogliando. Ok, ah... Ma... Cioè... Ha fatto... Stair tornado... Oh! 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 Mamma mia! Vabbè, era per sentanto troppo alto. per fare ma pensa ok è morto non so la via se lo sai vero? io si perchè sono... ecco l'altro è morto, è morto, è morto ah basta a dropparle però, che canto ok prone to nothing oh, oh, ha preso l'allacosante oh no, ingrazzate si si morto ah ma l'ha preso dietro ha fatto reverse down-tier ok ah, ha preso tanto oh ma qui è un... eh oh oh minchia ha provato una lead molto interessante qui gnome wow wow ok stai gi ma ha fatto Arulanti che c'ha 140 non lo so ok, non muore ancora non muore ancora oh oh, bello eh allora falla tu falla tu eh ehm ok ma se c'è tipo un form che devi compilare palino, sai che sei lo spesso, qualcuno... si deve tipo fare per minare bitcoin sai le ad degli omini che corrono riesce a risolvere questo caso è proprio intardato hanno fatto un grosso che è una collection che però ha 10 euro no questa cosa è tipo so you walk, so you walk the game no c'è questo match up è quel gioco che fa Aldo sulla switch col cubo solo per Luigi per Simon invece è Bloons di Tower Defense oh intanto la stock stiamo cazzeggiando stiamo chillando l'altro commenti tu su matchup oh 1 a 1 1 a 1 ragazzi 1 a 1 like se questo commentario è meglio di quello del Siga che comunque non commenta mai questo sono io a consigliere guardiamo qualche tiktok no che ti viene davvero lo strike al canale se non ti diseggiamo andato let's go golfing let's go golfing st 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 dovremmo farmi ma è già la serenza non no 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 poi non parlo che sapevo se ti riesce fuori ah è cominciato bro there's a crazy man up in this weekend aspetta ma quando è che ha vinto il team? eh prima non stavo guardando ok ragazzi solo professionalità solo professionalità a ordalia soltanto commentatori preparati al gioco soltanto gente che ha questo gioco e che i suoi player i player della committee ci tiene mamma mia ragazzi ma che cosa ve lo dico a fare ma che cosa ve lo dico a fare da un trovo a B signore io l'avrei fatta al posto suo si io l'avrei fatta ok bravo qui Iggy è bravissimo a coprire molto bravo a fermare i suoi bot buttons mamma mia ragazzi mamma mia oh si ok eh si niente volevo proprio dire Iggy il pasolini delle strapping o una cosa del genere ciao ho sentato oh ma sei fuori testo so tu son sono e lo no non parla U Fleet è un gioco mio oi un gioco allora se Ivi perde è un gioco è un gioco io l'avrei invitato ah pure io ma sei già seguito stai guardando ah già finito stiamo lasciando il gioco ah sì ma come fa vabbè gnomo il controllo continuate guardate no c'hanno più da piccolino ma qua che paura? che paura con la crona chat potete commentare bene guardate 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 mmmm mmmm penso erano le due che si riguarderanno un metro e questo bello di noi come fa? oh ha cauto i due da un giro wow noo che sfiga è stata sfiga pobale non si vedeva un calmo eh si perché c'erano la calma vabbè però è una buona strategia però ho paura ovviamente vabbè penso vabbè penso come torna? è morto stramorto ma la cosa è sicuro ma ha servito dai l'ha sguardato letteralmente Luigi wins ma 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 no che bello ragazzi potrebbe essere l'ultimo metro e aggiorno 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 oddio come si aggiornava cos'è? un cacchio no 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 Siamo tutti più grandi Siamo tutti un po' giocillati, povero Non si suol dire, ecco Gran commento questo comunque No vabbè, tutti sono un po' quello che sono Però cerchiamo di dare un po' onore ai player Sì! L'ho spiegato prima Voglio bene tutti due, però Farmo i soldi ai pochi Vabbè scelere qui sì Allora, fatemi doce troppi Oh sei incastrato! Ho fatto quasi premio Oh vabbè Oddio ma tutto qua aveva già L'ho visto a te Ma bambino Vabbè Vabbè È morto! L'impatto da solo! L'impatto Oh però! Dai una stocca intera di vantaggio Che non vuol dire niente No infatti No infatti tipo Non è più a percentuale Vabbè Semiprocentuale Fa 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 6% Urca! La palla! No! Non interagrato! E infatti mi sa cosa vuole fare! Però i danni si difesa! Vabbè! 4! Mamma mia! Vabbè intanto 67! Siamo even! Siamo even! Urca mamma mia! Io aspettavo! No! 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 Ma ci sono da poco! La città! Devo ancora perdere la 100... Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma che ha fatto? Che ha fatto? Che ha fatto? Che ha fatto? No! Porto! Porto! Ma dove? Mamma mia! Io non l'avrei mai teccabile! Anch'io tipo! Quella era impeccabile! Non so! Ha fatto le macumbe! È andato! No! Oh! Oh! Un po' troppo goloso qua! Non so! È morto! Vedi hai! Morto! Ciao! Vediamocela troppa! Vabbè è stato il Bowser! Sato il Bowser! Non puoi far di puntaggio lì? Eh ma... Si puoi fare il Tartunit? Ma era una domanda! Non lo so! Ma puoi fare il Tartunit? No! Che tragedia! Complimenti a tutti! No! No!